oggi non so se faremmo un video unico con tante cose oppure vari video ma penso più un video unico di tutta la giornata del 30 aprile quindi faremmo come ha detto mattia porta fra ignazio ci sarà una porta per entrare ovviamente poi faremmo la batteria antiaerei l'americo vespucci cagliari by night e poi t'azienda ragazzi t'azienda grande t'azienda iniziamo già male iniziamo già male non me lo chiedi se ce l'ho la gopro oggi no guardate abbiamo detto oggi c'è il sole può fare un'altra camminata è bello profondo magari ne troviamo una aperta ah guarda da sopra quindi qui sopra ci sono delle lo risultato del complesso di 6 piazzone e 4 gallerie che costruivano la batteria antiaerei c535 funziona di 22 della mondiale questa batteria era armata con canoni da 102-35 e insieme alla batteria l'antinave prunas aveva il compito di difendere il capolodo sardo agli attacchi aereo navale degli alleati perché dovrebbe essere la cappella perché c'è una croce ma sono una stanza no è un po' di dojo come li metti io te lo sopra ma è che non è piccolo ma è aperta anche la no no che è che ha perso di tutto ma è aperta anche guardate dove non è aperta no ho pensato che c'è cosa da sopra inghia stiamo entrando in zona contaminata occhio alle mine matti mi tocca coprire però mica sono disegnati bene un po' muscolosa occhio ai tetti qui li hanno messo a fuoco forse questa era la casa del capitano c'è un letto qua essere rapper ha il suo coraggio ma farne uno stile di vita ha i suoi pregi il tunnel venga ma arriviamo lì è chiuso vedete questa è la fine piccione morto piccione morto piccione morto puoi vedere il succo a me avvolta mazconi nero succede via via gabrino gabriev piccione morto ma questo ha trappole ma questo ha trappole ma è una rete un metallo gabbe per piccione serie bruciate il tunnel continua dopo la pulva andiamo andiamo ti giuro vai una pistola ma che pistola mamma che cosa è questo tunnel cassetto bisogna poterle attento attento sempre queste due a te qua dove è l'aria? no mi sa che siamo qui siamo arrivati ehm ving ving però tutto cazzo c'era qua sembra a vuoto sotto non battete troppo siamo arrivati alla fine no però è buio quindi non hanno mai chiuso se non è qualcuno ci passerà poco perchè ci hanno messo questo come gradino questo l'hai girato eh ma non arriva luce da lì o si aspetta abbassa la pila un attimo no non arrivo luce devi fare luce? continua non è finito vogliamo accontentarselo? continua si no il tuo culo sto inquadrando no il tuo culo sto inquadrando vuoi andare per qualcosa? prendi il tuo adesso raga ma veramente stiamo entrando guardiamo ma ti passami la tua torcia? hai paura no è perchè riesco a tenere in bocca Non è male che non l'hanno alzato la testa perché ci avrei dato una testata di quelle potenti. No, le vi stanno un po' dolce, ma che ne li diamo fra i ghiato? Finga, mo' ci chiusano. No, io sai cosa mi immagino, di più? Tipo, cosa salti via tosco? Tipo? Salti via tosco? Se illumini bene, prendi. Stanno registrando. Ho questa e ora cominciare a diventare. Questo non è praticato? No. Allora. Guardi il mucchio che ti fa scendere. Ma c'è una mucca. No, non esce luce da lì. Sì, la vediamo. E lì è bloccato? Eh? E' io. Dai, scendiamo con la destra. Ok. Questa è una, vai da due. Sì, uno. E' segnato? Perché no. Sì. Il mucchio. È un vento. Guardi, tieni per cambio. Aspetta. Ah, io sono quello che la faccio andare per prima. E sei lì. Come facciamo se no? Ok. What the fuck? troppa roba ma roba fa caldo qua dentro non so voi forse se riusciamo a si attualmente non sto a sentire l'umidità sto a sentire sto a vedere certo salta questa forma non c'è più ormai per giù tipo un age of vampire ok senti l'odore nel video non lo sentirete voi però c'è un odore di mare pauroso bello guardate le mura grosse che c'erano minchia lo vedevi da qui non entravvi eh non ti entrano i ladri in casa per fare la spiegazione dove fa la spiegazione e siamo venuti questo è l'ingresso del forte entrando sulla destra dovevamo trovarci un pozzo invece guardando sulla sinistra dovevamo trovare un edificio a un piano con la parte centrale con una mini torre con tetto spiovente e le due terrazze sopra elevate alle due torri sud del forte e da qui entravano con una scala in legno che una scala e un ponte ancora no guardate come Cagliari sistema le sue rovine proprio per i bambini che hanno due o tre anni proprio voglia di avventura io direi di andare a tosare la macchina veloce cercare un riparo adesso è cosa buona e giusta ma faccia cosa dica azienda se non vittava della gente che lo toscava tu doveva ti farci intanto vediamo Simone all'epresa alla ricerca di un fortino aperto per non bagnarsi guardate cosa abbiamo trovato di rientro abbiamo trovato l'uscita di quel tunnel dove avevamo prima tappata è normale che non siamo andati fino in fondo devi ricaricare il telefono guarda che panorama che avevano guardate cari amici dove vi portiamo questo è il faro il faro di Cagliari troviamo anche il VTS di Cagliari però lo sfondo al faro è giusto per vedere un faro sai quando vieni a vedere i fari di solito c'è sempre il... no ci deve essere il tipo con il cappotto il cappello da capitano sotto il faro che guardava l'orizzonte anche l'onda che gli arrivava c'è qua sotto se arriva un'onda fino a qui anche Cagliari è nella merda mi preoccupa uno tsunami mi piace se si se con ciao si mi piace